Un po' di problemi. Io prima ho parlato della crisi politica. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo come sistema politico italiano tre grandi problemi. C'è stato un personalismo all'interno dei partiti che è drammatico, con la scomparsa di organi collegiali. Si è bloccato la formazione e il reclutamento della classe dirigente. Per cui una classe dirigente che veniva selezionata darwinianamente adesso è selezionata in maniera cortigiana. E la storia ci insegna che quando si vince la cortigianeria vince la mediocrità. È inevitabile. Terza ed ultima questione. Manca nel sistema politico delle culture di riferimento, qualunque siano, ma delle grandi culture che siano la bussola dei partiti. Allora su questo diventa un rischio oggettivo. e aggiungo un'ultima cosa. La dimostrazione è che questo è il primo governo politico che ha quasi il 50% di tecnici. A cominciare dal Presidente... Mario Giordano...